amici di bella sicilia un giorno speciale stiamo per salire sul cratere di vulcano guardate panorama il paesaggio la salita entusiasmante che stiamo per fare e che vedrete prossimamente in maniera completa sulla pagina facebook di bella sicilia e su onda tv mentre passo dopo passo ci circondano paesaggi mozzafiato meraviglie della natura che meritano di essere vissute e amate noi di bella sicilia oggi per la prima volta attraverseremo questo percorso faremo questa escursione qui presso il vulcano nell'isola di vulcano perla dell'arcipelago dell'isola e olia e sono dei momenti speciali straordinari che stiamo per vivere vedete quegli alberi in fondo quelle persone noi siamo partiti da lì il percorso ci ha portati sin qui e adesso mancano solo 100 metri al cratere quindi continuiamo questo viaggio un viaggio dalle grandi emozioni emozioni che state per vivere insieme a noi per la prima volta per la prima volta in maniera in prima persona le telecamere di bella sicilia stanno vivendo questa sensazione una sensazione veramente di stupore qua la parola stupore la parola meraviglia luoghi meravigliosi che meritano di essere vissuti e portati nel cuore noi questa esperienza la porteremo per sempre dentro di noi perché è una delle più belle avventure una delle più grandi escursioni fatte da bella sicilia è visibile prossimamente su onda tv canale 85 ecco il porto dove abbiamo approdato questa mattina per vivere questa esperienza dedicata a tutti voi a voi chiamate le meraviglie della nostra isola la nostra isola la nostra isola la nostra isola la nostra isola lasciate qui i design guarda che faccia lì li valdo io lì 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 amici di bella sicilia un viaggio che resterà per sempre nei nostri cuori memorabile quello sul cratere di vulcano siamo nelle meravigliose isole olie e guardate queste fumarole di zolfo qui c'è veramente un odore forte è forte e lo stupore la magia di essere qui in un luogo straordinario un luogo meraviglioso bello siamo nelle fantastiche isole olie la nostra escursione al cratere di vulcano finisce con questa meraviglia